Assessore all'insegna della solidarietà, un festival non più Sanremo ma San Romolo che torna per la terza edizione. Sì, infatti questo spettacolo che abbiamo già potuto vedere anche lo scorso anno ha portato dei grandi risultati, soprattutto di sensibilizzazione e consapevolezza di quelli che possono essere i problemi reali poi nel sostenere le persone diversamente abili, ma soprattutto quelli che sono affetti da patologie dello spettro autistico piuttosto che anche altri disturbi comportamentali. Ci si è resi conto che qualcosa questa città doveva fare, soprattutto sul progetto che mi è stato presentato da parte di Giordano Tricamo. Abbiamo voluto dare una maggiore attenzione perché quest'anno lo abbiamo finanziato noi con i fondi dei servizi sociali, quindi con l'Avvocato Marrani che ha seguito tutta la situazione, insieme anche a Grazia Goccetti che poi ha seguito quella che è la parte burocratica. Per quanto riguarda noi, insieme alla Presidente Emanuela Mari, abbiamo voluto dare quindi il nostro appoggio. Assisteremo sicuramente a quello che è uno spettacolo solidare ma coinvolgente e soprattutto fatto da artisti. Si tratta di uno spettacolo organizzato con quella che è stata la valutazione di queste band, numerose band che si sono avvicinate anche a questa competizione e che si scontreranno bonariamente a suon di note sul nostro palco. Il taglio che abbiamo voluto dare a tutti i partecipanti è quello di reinterpretare le canzoni della storia di Sanremo facendole in chiave proprie, quindi dando una prevalenza un po' alla simpatia, all'ironia per cercare di passare una serata piacevole ma per potersi comunque divertire e gareggiare per essere la miglior band del San Romolo e per vincere il premio Solidarietà che è un premio che andrà direttamente all'Associazione Spazio Area. Il gruppo che raccoglie più fondi vincerà questo premio che prevede anche la registrazione di un video e audio del brano con cui parteciperanno alla manifestazione. I proventi verranno utilizzati per realizzare alcuni progetti che abbiamo in essere uno è già da anni sul territorio attivo che è appunto un amico in più vale a dire far uscire i nostri ragazzi con coetanei delle scuole cittadine, anche non delle scuole per favorire la creazione di amicizie, vita quotidiana, vita sociale e un altro che partirà a breve è di gestione della quotidianità con la realizzazione in autonomia dei pasti della giornata quindi insegnare a cucinare, a fare la spesa, a organizzare, a suddividere i pasti conoscere gli ingredienti in modo che un giorno, un domani in prospettiva di una vita autonoma o comunque ospiti siano attivamente partecipi e quindi creativi, non passivi non solo soggetti passivi perché spesso questi ragazzi vengono visti come persone da accudire in realtà hanno tantissime risorse e noi cerchiamo di tirare fuori tutto il massimo potenziale